molto preparati su come entrare nella struttura con le idee un po' confuse invece su cosa portare via furto con scasso questa notte alla piscina emma in contrada valgianese a disernia i malviventi sono entrati da una porta sul retro della struttura e fin qui il disegno criminale stava funzionando alla perfezione ma una volta all'interno i ladri sono andati in confusione hanno portato fuori un televisore un computer ma poi li hanno lasciati all'esterno del complesso in macchina invece hanno caricato l'impianto stereo di michele freda proprietario della piscina e presidente della proloco disernia valore commerciale circa 3.000 euro nel cofano della mercedes usata per la fuga anche due casse di birra perché si sa certe operazioni fanno venire sete ma non ancora soddisfatti hanno trovato il tempo per banchettare con crema di caffè e frutta sparsa un po' ovunque all'interno del locale insomma un modus operandi sui generis questa mattina la marra sorpresa per i titolari che hanno chiamato le forze dell'ordine i carabinieri hanno effettuato i rilievi e visionato le telecamere poste in una struttura poco distante grazie a tutti